La ricomposizione dell'alleanza di governo con i 5 stelle a palazzo di città più che segnare la vittoria del sindaco Meluccio del presidente Emiliano decreta la sconfitta del senatore turco. A poco serve ricucire lo strappo, far bel viso e cattivo gioco se le distanze e distingue o permangono. E mettersi sotto l'ombrello della battaglia da intraprendere in Parlamento per cancellare la reintroduzione dello scudo penale relativo all'ex Silva potrebbe alla fine non bastare a risaldare i rapporti tra il movimento che fu di Grillo e il Partito Democratico. Bisognava trovare una motivazione che salvasse la faccia a tutti. A Melucci che aveva agito in maniera frettolosa, ai pentastellati che avevano subito un'onta politica nella città che esprime pur sempre il vicepresidente nazionale del partito. Su come riempire di contenuti l'accordo di programma del Siderurgico, lo scontro è solo rinviato di qualche settimana. Stessa cosa dicasi sul possibile consumo di suolo pubblico che accompagna il controverso progetto di Comparto 32. Ma il tema vero alla base della decisione di estromettere l'assessore Cinque Stelle dalla Giunta Comunale riguarda altro. Attiene alle alleanze e alle candidature che andranno definite il prossimo anno per le elezioni europee e nel giro di un biegno al massimo per la successione d'Emiliano come presidente della regione. Se Turco dovesse essere candidato da Conte come governatore della Puglia, l'alleanza con il PD salta definitivamente. Viene giù del tutto dalla sera alla mattina. A Taranto così come a Bari. E il sindaco del capologo Ionico, con il ritiro delle deleghe assessorili nei giorni scorsi, ha voluto lanciare un segnale, lasciando chiaramente capire da che parte intende schierarsi. Dalla parte di Antonio De Caro, l'attuale sindaco di Bari, che studia da presidente di regione, e vede come fumo negli occhi i possibili contendenti provenienti dal campo amico del centrosinistra. Per queste ragioni il senatore Turco esce malconcio da questa mini crisi di governo apertasi al comune. Sfidato nella sua città perché possa esserli negato un futuro politico, si accontenta di un foglio di carta sul quale vengono appuntati impegni futuribili da rispettare. Il tutto poi alla presenza del notaio Michele Emiliano. Il cinismo è pieno di ingenue e disillusioni. Bari